Per me la ginnastica artistica è tutto. La ginnastica è la mia vita, fa parte di me. La ginnastica è uno stile di vita, una filosofia di vita. Vai! Alexia! Ale, se io sto lì in palata, aspetto, aspetto, penso, penso, che te devi pensare? Vai lì, ne fai uno e ritorni. Mi sento agitata. Mi batte forte il cuore. Non riesco a respirare. Mi tremano le gambe. Non riesco a reagire. Non vedo l'ora che tutto sia finito. Svegliare. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.